Avviso a tutti gli amati del cinema e dei fuoristrada! Questo episodio potrebbe essere molto interessante perché andremo a fare segreti degli abissi. Durante l'esplorazione abbiamo trovato una nave abbandonata sulla riva del fiume. Studiando gli archivi abbiamo scoperto che questa era una tratta abbattuta da alcune vecchie navi. Potrebbe esserci altri resti sul letto del fiume. Ci piacerebbe girare un film a riguardo, ma un solo relito non basterà. Quindi andiamo a cercare relitti, popolo. Andiamo a cercare relitti e andiamo a vedere che le ricompense sono abbastanza ampie. Mi dà un portapacchi per il tettuccio, quindi va bene così. Non mi chiede alcun requisito, ma io per non saper leggere e scrivere mi prenderò un idrologo. Poi andrò a prendermi probabilmente anche qualcun altro che mi serve per vedere salite e discese. Oppure ancora meglio per vedere almeno 30% del danno nei camion, sul serio zio? Scorciatoie? Potrebbe essere interessante, il limite del martinetto è interessante. Sì, gli operatori. Aumentiamo lo scouting virile e violento. Il veicolo nostro sarà ovviamente il... Madonna quant'è bello questo coso. È uno scout virile e potente. Ma anche il nostro bellissimo Kotko Canyon è uno scout. Quindi prenderemo il Kotko Canyon che andremo a personalizzare ulteriormente e vedremo che abbiamo i parafanghi, la scorta d'emergenza piccola, media e prenderemo la scorta media. Perché no? Quindi un supporto laterale ancora una volta che mi permetterà di mettere cose lateralmente. Di conseguenza avremo probabilmente altro carburante e dei ricambi e basta. No, nessuna ruota di scorta. Quindi ancora altro carburante. Via! 7 milioni di litri di carburante. Con questo sicuramente non rimarremo a secco. Vediamo un pochettino. Il paraurti rinforzato mi permette di portarmi una ruota. Il paraurti rinforzato, dici? È interessante. Prendiamolo. Paraurti di serie. Via! Quindi riempiamo lo slot con... Cosa? Beh, ovviamente una ruota. Anzi, addirittura due ruote. Esplora l'area! E si parte così subito con un esplora l'area che tra l'altro è proprio qua dietro l'angolo. Mi piace, mi piace. C'è qualcosa da costruire. Andiamo a vedere che cosa vuole che io costruisca. O quantomeno che cosa io potrei costruire. Guardate che bellezza questo mezzo. L'abbiamo reso proprio bello e carino. Fiero di sé. Modo di costruzione. Un'officina. Un magazzino. Un deposito secondario. Che mantiene cose. Un parcheggio ampliato che mi dà delle ruote. Ed è tipo... Ok. Abbiamo già dei depositi. Quindi... Io potrei fare un deposito secondario. Un'officina. Non ho ben capito esattamente come funzia. Ma non spenderò 20.000 euro per fare questa cosa. Per cui... Va bene così. Anche perché non ho capito bene a che cosa mi serve. Quindi per lo saper leggere e scrivere. Andrò per questa... Salita. E andremo avanti. Vediamo dove ci porta il cuore. Con estrema violenza e potenza. Si sale che è un piacere. Si sale che è una meraviglia. Ovviamente sappiamo che la velocità non è il top. Durante l'offroading virile e violento. Ma quello che sappiamo anche è che la potenza qua trassuda da tutti i pori. Quindi se volete vedere altri video lasciate un mi piace. Condividete questi video per far conoscere a Babushka. Ovviamente la potenza in persona. E per lo saper leggere e scrivere. Andiamo a prendere il nostro bel drone. E andiamo a fare una piccola capatina per capire. Incontro a che cosa stiamo andando. Meglio che abbia evitato questa zona. Non so esattamente dove potrò guadare dall'altra parte. Non ho danni al motore. Quindi posso anche sprofondare nel profondo. Qua si può scendere. Ma penso sia abbastanza violenta come cosa. Quindi andiamo a cercare una discesa. Nel frattempo non ho ben capito da che parte posso andare. Ma io vado. Io vado. Nel dubbio bisogna sempre andare. Sono pieno di carburante. Ho 10 milioni di titaniche da 15 litri. Per cui non ho paura di niente. Ci fermeremo esattamente qui. E andiamo a scoprire quel binocolo. Cose. Forniture. Interessante. Le forniture ci piacciono. Ovviamente non avendo con me grandi grossi specialisti. Non mi fa vedere nulla sulla mappa. Per cui sono un po' inciucciato. Ma le forniture sono esattamente qua. Sono forniture interessanti. Attenzione. Attenzione. Non sono da schifare. Però probabilmente qua si può guadare. Quindi aggiungi un punto di destinazione. E andiamo a vedere la zona dove si guada meglio. Ok. Facciamo finta di niente. Facciamo finta che non rischiamo di ribaltarci. Perché se non guardi a volte non succede. Ok. Ottimo. Ottimo. La forza di gravità ci tira verso il basso. Ma noi ci rifiutiamo di collaborare con lei. Ovviamente. E quindi cerchiamo di attraversare questo boschetto virile. Top. Molto ma molto virilmente bello. Ottimo. Troppo virile anche sto boschetto probabilmente per i miei gusti. Ci infiliamo così. Ci infiliamo così. Appoggiamoglielo all'albero un attimo. Perché a lui piace all'albero. Piace. E poi chi l'avrebbe mai detto. Andiamo in retro. Ok. I very professionals. Vanno in retro. Dopo 7 milioni di ore su SnowRunner. Possiamo fare anche questo. Il boschetto è dalla nostra parte. Vedete. Guardate. Rararararara. C'era una Toyota RAV4. Che assomiglia molto a questo Kotko. Anzi non è una RAV4. È una Toyota. Che è commercializzata. A quello che ho visto praticamente in Giappone. Non so se siete amanti delle auto. Se siete amanti di fuoristrada. Se chi se ne frega. Andiamo per i boschetti. Perché abbiamo un grande obiettivo da fare. Ossia quello di. Guadare. Noi dobbiamo guadare dappertutto. Infatti siamo qua. Adesso tiro fuori il drone. Per guadare meglio. Ok. Devo guadare da questa parte. Guarda che qua si apre bene bene la radura. E la discesa ci piace. Ok. Due ruote. Due ruote. Appoggia l'albero. E ci fermiamo un attimo. Perché dobbiamo guardare quel binocolo. Esattamente dove si può guadare. Qua. A un metro di distanza. In poche parole. Molto bene. Ci piace qualcosa. Quello era il danno al motore. Che potevo anche evitarmi. Ci buttiamo dentro l'acqua. E quindi usciamo dall'altra parte. 3, 2, 1. Tutto gas. Molto bene signori. Molto ma molto bene oserei dire. Un cavallo pazzo questo Kotko comunque. Un cavallo pazzo proprio. Ok. Quell'albero. Potevamo preventivare che era lì. Cioè nel senso l'avevamo visto già un po' di tempo fa. Ma io vorrei capire perché con una rollbar gigantesca. Mi si sta piegando comunque il cofano. Vabbè non facciamo domande. Non facciamo domande. Binocolo c'è qualcosa da vedere? Sì. Un altro guado. Perché io guado bene. Guado dappertutto. Ovviamente non ho uno specialista giusto. Quindi non posso vedere altro che i guadi. Ho l'esperto delle acque. E basta. Ok. Esplora l'area. Per una mano. E prendiamo il drone di violenza. Attenzione c'è un totem da questa parte che punta in su. E ci sono dei rifornimenti. Nessuno se li aspettava. Eccoli qua. E c'è anche il Stonehenge praticamente. Ottimo. Abbiamo trovato lo Stonehenge della pubblicità. A queste forniture ci piacciono. Ecco la prima imbarcazione che stiamo cercando. Devo dire che questa mappa mi piace sempre di più popolo. Sempre di più. Ha il suo perché. Guardate che bellezza popolo. Guardate che bellezza. Esplora l'area. Un'altra area da esplorare. D'altra parte dove dovrei guadare. Lá ci sono dei materiali. E qua ci sono dei rottami. Oh che bella discesa. Noi andiamo a conficarci dritto sulla barchetta. Oh yes baby. Ok. Due ruote ancora signori. Consiglio dei rifornimenti. I miei ricambi. Ah. Ah ok. Con dei ricambi così. Magia. Magia. Abbiamo il ponte. Altro che guaddo. Abbiamo smantellato tutto. E quindi per non saper leggere e scrivere. Passiamo con violenza sul ponticciolo. Creato. Amazing oserei dire. Ovviamente dovrei andare dall'altra parte. Ma dato che noi ci siamo imposti. Di tornare a casa con qualcosa in più. E riempire il bagagliaio di questo bellissimo mezzo fuoristrada. Ecco che ovviamente ci accingiamo ad avvicinarci a Codesta. Isoletta. Che non ci accoglierà a braccia aperte. Perché devo guardarla così mi sembra abbastanza virile e violenta. Ecco qua. L'ingresso che stavo cercando. Ok. Boom. Top. Qua non si può salire che ci sono dei gradoni. Quindi tiriamo dritto per i prati e per i boschetti. E entriamo nella zona rifornimenti. Dove commerciamo. E prendiamo ovviamente i rottami e l'onice. Che vale assolutamente un botto. Riempiamo il carburante di nuovo. E i rottami. Beh. Ci prendiamo. Anzi i ricambi. Ci prendiamo il top. Così ripariamo altri ponti in caso. Top. E adesso siamo pronti per riprendere il nostro lungo grande grosso cammino. Devo essere sincero. Devo essere onesto. Mi pesa molto ma molto meno il fatto di andare in giro così con lo scout. A esplorare la mappa che come su SnowRunner. Dove essenzialmente il nostro obiettivo era quello di romperci maroni e guidare dal punto A al punto B. E costantemente cercare le torri di avvistamento. E spesso e volentieri le mappe erano diventate dei puzzle praticamente. Per sbloccare questo dovevi fare quello. Per fare quello dovevi fare quell'altro. Ed era diventata un po' pesante la situazione. Per non parlare del fatto che spesso e volentieri poi c'erano a trasportare dieci volte la stessa cosa avanti e indietro. Ecco questa struttura è stata abbandonata come potete vedere. E quindi le missioncine hanno un perché. Ci sono 37 missioncine e non sono poche. Soprattutto per due mappe. Quindi vi terranno impegnati per un bel po'. Secondo me fino a quando usciranno poi nuovi contenuti che nell'Ear One saranno nuove mappe ovviamente. Nuovi specialisti, nuovi veicoli e nuovi tipi di missioni. Come abbiamo visto nei quattro anni di Season Pass di SnowRunner. Beh c'è stata la diversità più ampia possibile e immaginabile. Dal lanciare razzi in uno spazio, al costruire trivele e tante altre ovviamente cose. Tra cui trasportare legname come sul vecchio MudRunner. Per cui se ancora non siete convinti di comprare questo titolo, beh fateci un pensierino. E fateci un pensierino a non prendere a sportellate gli alberi. Perché madre Greta, ricordatevelo, vi guarda sempre. Esploriamo l'area, quindi prendiamo il nostro bellissimo drone. Dritti verso ovest. Guardate che bel panorama, che bel paesaggio. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante da queste parti. Anche perché abbiamo visto che anche senza lo specialista possiamo fare da noi con il drone. Ovviamente ci mettiamo molto di più perché trovare le cose col binocolo ti aiuta a identificarle da distante. E invece così insomma si fa un po' più fatica. Però ti dà le sue, le tue, le sue, le loro, le nostre. Insomma ci prendiamo le nostre soddisfazioni in ugual misura. Un po' come quando guardo un video violento e virile come questo. Ricevere tanti bei mi piace. La soddisfazione è più o meno la stessa. E quindi impegnatevi a rendermi contento. Che cosa è successo? Mi si è bloccato tutto. Oddio, 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 oddio. Se voi ci crediate o meno c'è stato un piccolo problema con le batterie del drone. E quindi ecco che dopo qualche altro tentativo siamo forse riusciti a esplorare l'area completamente. Esplorare la nave arrugginita. E se tu sapevi che la nave arrugginita era dall'altra parte, perché mi hai fatto fare tutta questa cosa? Perché mi hai fatto fatto questa cosa, mannaggia te? Allora, devo tornare indietro, attraversare, andare praticamente di qua e fare cose. Quindi andare qui e poi andare lì e poi ciaone. Di conseguenza devo riattraversare il fiume. Al contrario, come vedete il mezzo potrebbe aver subito qualche piccola escoriazione. Ma è tutto regolare, tutto nella norma, tutto alla grande oserei dire. Questo Kotko ti porta dappertutto. Non è overpowered, ma non è bilanciato secondo me in maniera perfetta. Non è come il Khan Marshall di SnowRunner, dove praticamente con un mezzo della Deluxe Edition si arriva essenzialmente ovunque in maniera abbastanza furbesca, senza alcuno sforzo. Consuma niente e ti porta ovunque. Khan, Marshall, SnowRunner. Cercherò di seguire questa salitina. Attenzione, abbiamo fatto ovviamente la manovra del vericello a mano. Non è il freno a mano, ma il vericello a mano, perché abbiamo sterzato praticamente col vericello. E quindi questo ramo non mi vuole far passare. Mo' lo vado a dire al signor forestale. Che non puoi startene per i affari tuoi quel ramo, eh? Ok, neanche quel ramo mi vuole far passare. Che problemi hanno questi alberi? Sono razzisti con i furgoni gialli? Ok, proprio due tonnellate riescono a reggere, in maniera virile. Ovviamente io sto uscendo dal boschetto laddove è pieno di sassi. Senza problemi, senza paura, senza alcuna sfida quasi. Mi approccio qua e sono... Attenzione, eccolo che sta per arrivare. Scendi, 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 scendi. Scendi, scendi, bravo così. Scendi, gira però. E niente, non vuole girare. Vabbè, così ci piace lo stesso. Un po' meno, ma ci piace lo stesso. Laggiù non gli piace, qua giù non gli piace. Qua sul dole vedrei abbastanza improponibile. Martinetto! Ah, è l'altezza il problema. Vabbè, mi va bene anche qua. Cioè, potrei impegnarti un po' di più, onestamente, signor Martinetto. Ah, ok, perché giustamente dice... Non sei ribaltato. No, non sei ribaltato. Sei solo appoggiato su un fianco. Quindi andremo a usare un... Un gancio. Che lo mettiamo lì e... Giustamente non è... Non sono ribaltato. Ha ragione. Allarghiamo un pochettino. Lasciamo andare. E arriviamo, ovviamente, dove volevo arrivare. Dove devo scansionare per vedere meglio questa barchetta. Guarda, ancora meglio. Prova a vedere. Ti piace? È perfetta per il film? Stanno cercando le barchette per il film e quindi... Eccola qua. Sarà qui da molto tempo. Vale la pena esplorare il fiume. Forse troveremo dell'altro. Ah. Tutto qua. Penso ci siano delle cose che mi possono essere utili là dietro. Scansione del reddito della nave con un drone. Vabbè. Aspetta un attimo. Fammi andare dall'altra parte, però. In retro e appoggiandoglielo, ovviamente. Potenzia. Potenzia. Interpretazione moderna del vecchio motore che ne aumenta l'affidabilità. Potenzia e accelerazione a fronte di un maggiore consumo di carburante. Sì, ma per quale camion è? Ah, per l'ank. Ok. Va benissimo. Ah sì, io potrei anche provare ad andare dritto per dritto così sotto il stile sommergibile. Perché tanto non subisco danni. Ma non credo che potrei andare troppo tanto lontano. E onestamente non mi va di ricominciare da capo, quindi faremo finta che siamo dei bravi ragazzi. E attenzione, però, perché qua mi piace. Non ho intenzione di fare il giro di tutto il lago, quindi ho scoperto un guado. Palese. Metteremo la marcia. Aha. E via. Andiamo. L'altra mia presa d'aria è fuori, quindi via così col sommergibile, ragazzi. Ci agganciamo lì. E andiamo che è un piacere. Vi lascio indovinare, probabilmente dovrei trovarmi sulla sponda opposta. Questo è lato dove si trova il relitto della nave. E quindi probabilmente dovrò fare il giro del mondo per arrivare là. Quando mai questo è stato un problema per noi altri. Fatemi scendere al piano di sotto. Ecco qua. Scesi al piano di sotto. E adesso andiamo avanti di qua, perché... Di là c'era un po' troppa pendenza, un po' troppa insucianza. Potrei usare il fiume per tornare praticamente a monte. Ma non è quello che ho intenzione di fare. Col calare del buio sto passeggiando su dei barili probabilmente di rifiuti chimici radioattivi di altro tipo. Abbandonati ovviamente qui. E sto venendo un mezzo laggiù nell'acqua. Potrebbe essere il mio, ma il mio sappiamo che praticamente è un sommergibile. E mi sto avvicinando a questa zona quando basterebbe che io attraversassi l'altra parte se non fosse che il fiume è praticamente in piena. E di conseguenza... Eeeh... Ci hai provato a ribaltarmelo? Ci hai provato? Non so cosa stai facendo? Ok. Sto... Sto tirandolo fuori ovviamente. È palese, vero? Potrei riposare un attimo su un fianco, ma non c'è tempo da perdere. Questo è quello che succede quando si fanno le strade diverse e sbagliate. Ma noi ovviamente siamo alternativi. Siamo genti che non si arrende così facilmente. Siamo genti che vorrebbe capire se il vericello dall'altra parte riusciamo a buttarcelo. E quindi attenzione. Ci buttiamo in mezzo al mar. Vediamo. Non riesco ad arrivare fino all'altra parte perché è troppo distante ancora. Però se riesco a salire lassù, dove ci sono quei due rocioni che si avvicinano tra di loro, potrei tentare la fortuna. Ed ecco che parte la missione attraversata folle! Attraversata folle si chiama questa missione. Eccolo lì. Ci trainiamo dall'altra parte. Ci usiamo praticamente... Facciamo un traghetto. Incredibile. Nessuno l'avrebbe mai detto, ma... Si riesce, baby. Si riesce. E si riesce con eleganza, con violenza e con potenza. E per qualche motivo mi fa arrivare su questo isolotto. Quindi fermo un attimo e fatemi capire cosa c'è su questo isolotto di tanto prezioso. Perché qua sembra esserci la possibilità di costruire un ponte. Lì c'è sicuramente un camion da recuperare. Ed è sicuramente un hank. E' questo il posto dove io dovrei arrivare. Quindi un ulteriore guado. Chi l'avrebbe mai detto? Nessuno ci credeva. Nessuno sperava. Nessuno proprio... Dava praticamente... Nessuno riponeva la sua fiducia in questo mezzo. Tranne me, ovviamente. Che sono il più potente boss della potenza. E ovviamente se voi non conoscevatemi, adesso mi dovete conoscere. E dovevate conoscermi ancora tempo fa. E dovete abbonarvi e scrivervi e fare tante cose. Perché io avvio la scansione. E vado a cercare dove può essere questa grande e grossa nave. Che secondo me... Beh diciamo che... Ha visto tempi migliori. Ottimo. Ecco perché non riuscivo a attraversare il fiume. Perché ci stavano pezzi e nave sul fondale. E l'ultimo pezzo. Fantastico. Abbiamo trovato un'altra nave sul fondale del fiume. Forse troveremo un tesoro. Amico mio. A te piace sognare? Sognare anche tanto. Ma... Riconosci tre punti sconosciuti sulla mappa. Ma in che senso? Che cosa vuol dire? Va bene. Fa stesso. Recupera il veicolo. Meno di due volte l'abbiamo fatto. Subisci pochi danni. E ricevi questi premi. Fammi diventare ricco. Oggetti venduti. Un sacco di danari. Altri 40 minuti di violenza e potenza. Per cui io direi che... Mi fermo qua con questa grande e grossa avventura. E abbiamo fatto 7 spedizioni su 37. Ne mancano solo 30 per finire Carpazzi. Nel frattempo i labirinti montani ci sbloccano nuove cose. Come una piccola scossa o cambiamenti nocivi. Costruzione ponte. E qua vuole un fuoristrada. Incredibile. Ci piace? Ci piace. Ci paga tanto? Assolutamente sì. Ci sono veicoli nuovi? Porca miseriaccia. Nel negozio del camion possiamo vedere che cosa possiamo comprare. E che cosa possiamo comprare amici. Non ho un Loadstar? Ah no, io ho l'Allstar Special Edition ovviamente. Questi ce li ho. Potrei comprare la FM ma serve il fuorifango. Questo è completo ai lavori speciali. Il coli. Analisi geologica fallita. Insomma, un sacco di altre cose che devo finire per poter sbloccare nuovi mezzi. Ma nel frattempo io vi ringrazio per la compagnia. E vi do appuntamento a un prossimo futuro episodio. Se vi è piaciuto ovviamente sapete quello che dovete fare. Nel frattempo, buon proseguimento. Ciao! Ciao!